vi presento ora una vera chicca un vero strumento classico è una stingray guitar in una tradizionalissima finitura sunburst ma è veramente la tradizione in lei chitarra in mogano il manico in acero la tastiera in palissandro e l'elettronica è la musicman vintage questo è uno strumento meraviglioso e purtroppo ne sono arrivate pochissime perché poi c'è stato quello che tutti ormai ricorderete il contingentamento degli arrivi del periodo del covid e quindi di questa meravigliosa chitarra ne sono arrivate col contagocce ma col contagocce inteso due è arrivata una nera ed è arrivata una sunburst che è questa qui ve la facciamo rivedere anche la parte posteriore del manico è meravigliosa ragazzi stingray guitar